Buonasera e bentornati a Talk Sicilia. Forse è arrivata la bella stagione, anticiclone delle azzorre permettendo. Il cambiamento climatico mette a dura prova la nostra resistenza al cattivo tempo e tutti sperano di arrivare all'estate il prima possibile. Per l'estate per noi significa tempo di vacanze, anche perché il turismo per la Sicilia rappresenta una delle voci più importanti del PIL. Per parlare del turismo in Sicilia oggi abbiamo un ospite prestigioso, un uomo che del turismo ha fatto la sua ragione di vita. Do il benvenuto a Toti Piscopo. Grazie, grazie Piero, saluto a tutti i telespettatori. Allora, 50 anni di esperienza nel mondo del turismo, insomma non è carino raccontare della tua età, però insomma hai 50 anni di esperienza nel mondo del turismo. In questi 50 anni com'è cambiato il turismo in Sicilia e che cosa manca alla nostra regione per essere veramente competitivo? Ma sai, io credo che quello che sia mancato negli anni precedenti, quindi parliamo dei quattro decenni precedenti, sia mancata una volontà e una visione strategica di puntare sul turismo. Cioè noi allora avevamo la Sicilia, i siciliani avevano il sogno di questa Sicilia industriale, basti pensare che i primi insediamenti furono quelli di Termini Merenzi oltre dopo il petrolchimico di Gela, insomma, no? Quindi il turismo fondamentalmente era considerata praticamente un po' la scenerentola dei settori. Quindi, perdonami se non ho capito male, tu dici che noi ancora oggi scontiamo il peccato originale con la nascita dell'autonomia di aver voluto programmare l'industrializzazione del territorio a scapito dell'ambiente del turismo. A scapito dell'ambiente del turismo, insomma, assolutamente sì, insomma. Ma questo perché ovviamente era stata fatta una scelta in mancanza di una appunto visione complessiva. Da 30 anni a questa parte, poco alla volta, grazie all'azione pioneristica di alcuni, mi piace ricordare per esempio il famoso De Gaetani, proprietario dell'hotel Santa Lucia di Cefalu, insomma, no? Che colse l'occasione dell'insediamento del Club Mediterraneo per dire, beh, a Cefalu si può vivere di turismo. Oppure gli insediamenti che si fece a Tormina che rappresentavano i due fari, insomma, no? Di questa Sicilia turistica che voleva vivere di ospitalità e di accoglienza. Ecco, da allora è stato un processo estremamente lento, estremamente duro, basti pensare, facevamo la considerazione che proprio per una pubblicazione che stiamo curando, che in questi 25 anni si sono avvicendati qualcosa come 13 presidenti della regione e 19 assessori al turismo, insomma, no? Che sono, erano fatti ovviamente... Per fare capire a chi ci ascolta, il turismo è una materia delegata tra quelle che rientrano nelle competenze autonomistiche della regione. Assolutamente sì, insomma, ed è proprio questa mancanza, questa delega, la possibilità che avevamo di poter dare in piena autonomia una visione di crescita di questo settore è stata un'occasione, dal mio punto di vista, che si è praticamente perduta. Ma non soltanto un'occasione perduta, perché tu parli di 13 presidenti e 19 assessori al turismo, ma anche una montagna di risorse economiche che probabilmente non sono state utilizzate bene. Assolutamente sì, insomma, ma questo è un dramma, direi quasi complessivamente, della Sicilia tutta. Che non riguarda soltanto il settore del turismo. E non riguarda solamente il settore del turismo, insomma, sono state e me tante occasioni mancate in questa nostra terra. Le vogliamo ricordare le grandi occasioni mancate, come che tu hai vissuto in prima persona. Io vado un po' a braccio, no? Sì. Universiadi. Beh sì, chiaro, universiadi, però... Siamo nel 1997. Universiadi, ma anche più recentemente anche i campionati mondiali di calcio, no? Che è stata anche questa una grande occasione. Ma vorrei dire, per esempio, il grande insediamento anche di Sciacca Mare, in cui c'è stato anche il grande fallimento della regione intesa come una lente imprenditoriale, insomma, no? È stata un'operazione fondamentalmente che puntava a costituire il terzo polo turistico e che poi di fatto è saltato... Ma che abbiamo fatto Sciacca Mare, quell'albergo? Esiste ancora? No, il complesso Sciacca Mare nel suo progetto originale non esiste più, insomma. Quelli che furono i quattro alberghi dei sette, cioè all'origine erano undici che si prevedeva di doverne costruire, poi si ridimensionarono a sette. In realtà se ne costruiranno quattro solamente questi quattro ormai fanno parte del gruppo Mangias che li ha rilevati praticamente nel tempo. Ma le famose orche di Sciacca Mare che è la regione ha fatto per tanti anni saranno morte? Saranno morte, chissà dove sono andate a finire. No, perché, ma per chi ci ascolta, il totipiscopo, che ovviamente è la memoria storica del turismo in Sicilia, è come se lo volessi, come dire, sempre ricordare la sua veneranda età, ma non è per questo, è soltanto per rodare la sua esperienza. I sprechi del turismo in Sicilia sono, come dire, un po' il paradigma di quello che non funziona nella nostra terra. Ma guarda, prova a pensare che uno dei paradigmi che credo possa essere il più attendibile fra tutti è che in questi anni non si è riusciti a fare una legge organica sul turismo. Cioè il settore è ancora regolato da una legge fascista, quello che riguarda tutto il periodo, la categoria per esempio. Perdoni la battuta, però in sintonia con i tempi che stiamo vivendo. Beh, da questo punto di vista... Non voglio accusare di fascismo nessuno, però insomma siamo un po' sbilanciati a destra in questo paese, quindi non saranno loro a modificare questa legge. Assolutamente, beh, anche se ovviamente questo governo già lo ha posto, ma così come tutti gli altri governi che li hanno preceduti, lo hanno posto tra le priorità, cosa che in realtà non si è mai riuscita a fare, parti pensare che noi in Sicilia non abbiamo assolutamente un centro congressuale che sia adeguato praticamente a quelle che sono le esigenze e la cronaca di questi giorni è che non abbiamo ancora risolto il problema dei trasporti. Ecco, andiamo a vedere, abbiamo fatto un piccolo escursus, magari un poco scompaginato, però ha dato l'idea a chi ci ascolta di che cosa è stata la politica del turismo in Sicilia in questi 40 anni. Oggi il turista è cambiato, non esistono più le agenzie di viaggio come intermediazioni, in gran parte ognuno si costruisce il proprio percorso autonomamente, sono nati i bed and breakfast, le case in vacanza. Oggi la Sicilia è in grado di gestire le nuove frontiere del turismo? Assolutamente sì, mentre prima il turismo, la consistenza era determinata solamente dai flussi turistici del turismo organizzato, cioè si arrivava in Sicilia grazie alla volontà e allo spirito pionieristico di molti tour operator o agenti di viaggio che mettevano i voli charter dalle destinazioni verso la Sicilia. È nato così il mercato francese, insomma, sull'onda dell'immagine positiva del club mediterraneo, alternativamente e ad integrazione di quell'offerta che comunque già allora rappresentava un'offerta di fascia medio-alta, è diventata un'operazione di grande diffusione. Proviamo ad immaginare che nei tempi l'eroviaggi guidata a guida Antonio Mangia, ogni stagione estiva portava qualcosa come una catena chart di 35 voli la settimana, insomma, no? Questo per dare il senso. E parlando a punto di volumi, adesso quanti turisti arrivano in Sicilia ogni anno? Beh, adesso siamo sull'ordine dei 12 milioni di turisti che arrivano, è cambiato… 12 milioni di turisti in presenza e quante sono? Beh, parliamo di circa… sono circa 7 milioni di arrivi e circa 14 milioni le presenze. Quindi una permanenza media di un paio di giorni. Però, diciamo, io ricordo i tempi fino a qualche anno fa, si raccontava che la Sicilia avesse lo stesso, come dire, volume di traffico turistico dell'isola di Malta. Credo che siamo ancora lì, eh? È assolutamente sì. E non è un po' paradossale questo? È paradossale sì, però Malta è intanto uno stato a sé, cosa che la Sicilia non è, perché comunque fa parte praticamente del paese Italia e quindi è sottoposto al governo. Basti pensare alla famosa legge 5, insomma, che ci comporta una dipendenza da parte del paese. Poi Malta ha risolto il problema del vettore aereo. Malta ha una sua compagnia aerea. Noi in Sicilia, nonostante ci siano stati ben otto tentativi generosi di altrettanti pionieri del settore, di imprenditori. Non abbiamo una compagnia aerea. Credo che sia storia di questi giorni, insomma, ancora le vicende legate a AITA, legate a RENER, legate alla nuova compagnia, questo nuovo vettore aereo che si è professato e si è candidato a fare la cosa. Nonostante questo, devo dire che ancora c'è ancora uno spirito praticamente pioneristico che è determinato da una compagnia aerea siciliana generata, creata con azionariato popolare ed ispirata dal famoso Luigi Crispino che in Sicilia si chiama, mi sfugge il nome in questo momento, mentre parliamo ne verrà fuori, insomma, e che ancora praticamente non riesce a consolidarsi, anzi le sue battaglie sono quelle di tentare di essere ascoltato dal governo della regione. Apriamo un altro capitolo sul dossier turismo. Penso da 30 anni, da quando mi occupo di informazione e giornalismo, il mantra della politica è il concetto di destagionalizzazione, è quasi impronunciabile questo termine, destagionalizzazione del turismo. Tu lo pronunci più frequentemente e quindi ormai lo scioglilinguolo ti è venuto… No, io non lo pronuncio più perché da un paio d'anni a questa parte noi ne abbiamo fatto una campagna di opinione, insomma, e cerchiamo di portarla avanti sia a Travelespo sia lo faremo ancora nella prossima edizione, del fenomeno dell'allungamento delle stagionalità. Questo per due motivi. Primo perché destagionalizzazione se ne parla, come dicevi correttamente tu, da circa 30 anni, insomma, a questo punto o c'è un problema di grande incapacità o c'è stato un problema che porta male il termine e quindi meglio abolirlo. Però il concetto dell'allungamento delle stagionalità ha una sua logica, ancora di più oggi, alla luce delle condizioni climatiche, insomma. Oggi puoi dire in assoluto che i bagni, il sole si possa prendere solamente ad agosto? Ovviamente no, insomma. Abbiamo scoperto che a giugno è difficile andare a mare perché questa stagione è particolarmente piovosa. Però a febbraio e marzo, insomma, proprio a Mondello ci si faceva il bagno, insomma, no? E quindi, allora, questo, dico, al di là delle condizioni climatiche, noi abbiamo, oggi si è sviluppato come elemento di grande novità, tutto il grande turismo degli individuali, insomma, no? Che si muovono praticamente tutto l'anno. Allora il problema, credo che in questo periodo, in questo momento, proprio nel periodo del post-pandemico, si sono create tutte le condizioni ideali per favorire ulteriormente questo turismo individuale, che peraltro va ad alloggiare anche nelle strutture che io definisco, nelle strutture ricettive che io definisco integrative o alternative rispetto alla ricettività tradizionale, quella degli alberghi e quindi che ha un gusto e il piacere di provare di vivere esperienze, emozioni, scoprire quelle cose inedite che la Sicilia praticamente può offrire. Tu hai aperto un altro piccolo dossier, sei, diciamo, ovviamente dall'alto della tua competenza, conosci esattamente il turismo e sai quali sono i panieri da andare a toccare. Apriamo un altro di questi panieri. Un'altra delle tante convinzioni della politica è stata quella sempre di integrare il valore turistico, la spiaggia, il sole, il bel clima della Sicilia, ai principi culturali, archeologici della nostra terra, all'agroalimentare, al food, ma questa ricetta, anche questa è una cosa che va avanti a tanti anni, ma non mi pare che siamo giunti mai alla definizione di una politica integrata. Assolutamente. Il concetto è questo, che ancora il turismo si è vissuto praticamente come la cenerentola dei settori economici. Io credo che c'è stato questo limite culturale da parte della nostra classe politica, dimenticando che il turismo è un fenomeno che va organizzato, perché come tutti i fenomeni di massa, se non lo organizzi praticamente, sei costretto a subirlo. E il turismo si può non subire, insomma. Allora va pianificato con delle offerte che siano motivate, fortemente integrate e selezionate per nicchie di mercato ben specifiche. Il fatto che per esempio dai cinesi, dal mercato della Cina, da noi arrivano ed è particolarmente gettonata la Sicilia, il fatto che in questi ultimi anni, particolarmente nel periodo della pandemia i mercati internazionali hanno scoperto la Sicilia come tra le destinazioni turistiche più cliccate, è un dato positivo, insomma, che ci fa comprendere come il livello di conoscenza sia praticamente ormai estremamente alto. Ora quale problema rimane? Quello di dare un'organizzazione complessiva a tutto il fenomeno. Beh, ma sembra facile detto così. In realtà organizzazione complessiva significa infrastrutture, servizi di accoglienza, ospitalità. Assolutamente. E noi, diciamoci la verità, Toti, tu che diciamo giri quotidianamente per la Sicilia e non solo a livello di infrastrutture e di comunicazioni, siamo all'anno zero. Siamo completamente all'anno zero, però ribadisco ancora e questo ci deve far pensare e ci deve far cogliere subito l'opportunità, però non dimentichiamo che anche negli anni passati, nonostante praticamente la Sicilia fosse particolare, per esempio Palermo, fosse colma praticamente di rifiuti, insomma, la gente continuava a venire, continuava a fotografiare e non sempre per. Il che cosa vuol dire? Che l'attrattiva culturale della destinazione è più forte rispetto ai malfunzionamenti. Questo cosa ci deve indurre? A risolvere i malfunzionamenti, perché questo momento magico che stiamo vivendo e stiamo attraversando, noi corriamo il rischio di perderlo, che possa finire come il fenomeno immobiliare di alcuni anni fa, in cui tutto si trasformò in una bolla, sembrava che tutto stesse esplodendo e invece il giorno dopo tutto si è gonfiato con estrema facilità. Allora, oggi che finalmente la classe politica si è resa conto che il turismo, ribadisco, è un settore economico produttivo praticamente, che riesce a distribuire ricchezze in maniera democratica, insomma, perché tutti ne traggono beneficio, dall'albergatore, all'enoteca, all'enoteca, all'accessista e tutto quanto. Allora, questo diventa un momento che è un'opportunità che bisogna cogliere. Come bisogna coglierla? Mettendo a sistema veramente tutte le nostre risorse. Tanto per fare un esempio, noi nella prossima edizione di Travel Expo che si farà a settembre… Devo aprire una piccola parentesi, vorrei ricordare a tutti che tu da 25 anni, in quarto di secolo, organizzi questo grande appuntamento che si chiama Travel Expo, perché se no questo concetto di Travel Expo resta la borsa globale, è giusto, la borsa internazionale del turismo in Sicilia. E' questa borsa globale dei turismi che noi praticamente da 25 anni la organizziamo per sostenere il mercato delle imprese private, ma principalmente per individuare tutti quei punti deboli, quei punti nevralgici che vanno ovviamente affrontati e risolti. Allora, anche qui il turismo diventa, se non entri nella logica praticamente, di pianificare, programmare, di puntare sulla comunicazione, sul marketing, sul supporto alla commercializzazione, il tutto in tempi praticamente razionali e ragionevoli, perché io dico sempre che il tempo è un valore economico che a volte è superiore al denaro. E' una risorsa finita il tempo peraltro. Il denaro paradossalmente non lo è, perché se ne può stampare fino all'infinito se le banche centrali decidono di farlo. Mentre di tempo è finita la cosa. Allora, dico, a questo punto diventa estremamente importante puntare su questa operazione. Oggi noi abbiamo per esempio riscoperto i borghi, insomma, no? Chi sino a pochi anni fa dava un centesimo praticamente per piccoli borghi che sembravano delle situazioni. Oggi invece noi ci poniamo il problema, così come le grandi città incominciano a soffrire dell'overbooking, insomma, no? E allora dico questo è il momento che in nome del turismo possiamo anche valorizzare le periferie dei grandi centri, insomma, perché l'esperienza ci insegna che il turista comunque che venga in forma organizzata o che venga in forma individuale ha interesse praticamente a scoprire tutto ciò che è elemento di novità. Cioè anche la nostra identità siciliana diventa un elemento di curiosità, perché se ci facessimo anche un bagno di autostima, insomma, no? Ma nel senso positivo, insomma... No, quelli però non mancano mai bagno di autostima a parte dei siciliani e soprattutto ai palermitani siamo sempre palermocentrici, no? Questo è un peccato capitale. Però sai, il concetto diventa che mentre oggi dovremmo sostituire il concetto che siamo belli, bravi e buoni, insomma, no? Che è tipico, insomma, del nostro modo di vedere con il concetto che siamo bravi, siamo in gamba, insomma, siamo creativi e siamo sempre ospitali e generosi. Io credo che l'ospitalità sia uno dei piccoli gett della nostra terra. Assolutamente sì, ed è il nostro punto di forza, insomma, di contattura. Tu dici che è un punto di forza? Io credo possa essere un punto di debolezza, perché quando arrivi sulla spiaggia di Mondello e trovi centinaia di lattine buttate per terra... Ah beh, sì, sì, certo. Cioè non abbiamo la cultura e il rispetto al nostro territorio. No, assolutamente. Questo è un dramma, ecco, perché io credo che anche da questo punto di vista, in nome del turismo, si può anche portare avanti una fase di educazione o rieducazione civica. Ma a proposito di rieducazione e rieducazione civica, le tue riflessioni in questi 20 minuti che sono trascorsi velocemente, mi hanno portato a pensare che in realtà c'è un grande gap da parte della politica che non ha mai saputo esprimere, come dire, una voce tonante che desse lustro al turismo siciliano. A questo punto, non sarebbe meglio affidare ai tecnici la funzione del turismo, piuttosto che, diciamoci la verità, negli ultimi mesi abbiamo assistito a un balletto di cambio di tele che per motivi che hanno veramente ben poco a che fare con le sorti del turismo siciliano, non se ne prenda nessuna, no? Assolutamente sì, ma sai, questo credo che sia il grande limite della nostra classe politica, insomma, non comprendere quella che è la netta distinzione tra le esigenze del mercato che sicuramente non sono in assoluto quelle che devi praticamente rispettare, ma che devi sicuramente incoraggiare e stimolare, insomma. Allora, il paradosso di una classe politica che si dice liberista, ma in realtà è molto conservativa dal punto di vista proprio delle guarentigie politiche fino a se stessi. Sì, sì, ma questo lo vediamo ahimè in tutti i settori, insomma. No, no, qualcuno no, magari in qualche ramo all'amministrazione pubblica ci sono uomini che si sanno da fare, che non facciamo di tutto un'erba un fascio. No, assolutamente no, ma come sempre, io credo che come sempre in queste cose non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio, ci sono anche dei punti di eccellenza, insomma, anche nelle amministrazioni locali, però il problema io credo che ormai sia che la nostra regione proprio come anche come sistema amministrativo è in una fase totale di implosione, insomma, c'è un problema che non si trova più, è un modello organizzativo che è completamente superato, insomma, è desueto, fa acqua da tutte le parti, insomma, non c'è un ricambio generazionale, c'è questo grande gap da recuperare, ci sarebbe da fare quel grande scelta di umiltà di dire, bene, visto e considerato che i partiti non formano più una classe dirigente, però prendiamo dal mercato gli imprenditori, i privati che comunque nel tempo hanno continuato a studiare, a formarsi, a tenersi aggiornati e a tenere in piedi la Sicilia. D'altra parte non dimentichiamo che la nostra regione vive ancora la forza delle microimprese, credo che questo sia un problema di tutta l'economia nazionale, insomma, le microimprese... E' stato il vanto dell'Italia, ora sta diventando con le tecnologie 4.0, sta diventando il tallone d'Achille. Cioè, assolutamente sì, ma anche lì, capisci, per esempio, possiamo pensare a tutti i fallimenti della formazione che si sarebbe anche potuto puntare a sviluppare quella cultura di imprendimento. Forse avremmo potuto fare il ponte sullo stretto, avremmo potuto fare il ponte sullo stretto in tutta l'economia. assolutamente sì, è una battutaccia. E con questa battutaccia io, come dire, ringrazio Toti Piscopo per il tempo che ci ha dedicato. Magari ci vediamo al prossimo Travel Expo. Assolutamente sì, ma anche prima, comunque ringrazio la testata che ci ospita e i telespettatori che ci hanno seguito. Perfetto, allora grazie a Toti Piscopo ancora una volta, grazie a voi che ci avete seguito, sempre con tanto affetto e attenzione, e ci vediamo alla prossima puntata di Talk Sicilia. Grazie. Grazie a tutti.